Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Serie TV Italia. Prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Ciao a tutti gli amici di Serie TV Italia. Avete seguito l'ultima puntata del Grande Fratello? Beh, se vi siete persi l'ultimo gossip, sono qui per aggiornarvi. Paolo Masella, che da settimane girava intorno a Letizia Petris, ha finalmente deciso di mettere le carte in tavola e confessare i suoi sentimenti. Ma sorpresa delle sorprese, Letizia, pur dimostrando un certo feeling con Paolo, ha frenato tutto a causa di una relazione fuori dalla casa. Paolo è stato davvero coraggioso, mettendosi a nudo di fronte a tutti. E la reazione di Letizia ha sicuramente fatto riflettere. Ora, tutto il Grande Fratello è in subbuglio. Da un lato c'è chi supporta Paolo e spera in un avvicinamento tra i due, dall'altro chi comprende e rispetta la decisione di Letizia di mantenere le distanze. E voi, cari spettatori, da che parte state? Pensate che tra i due C possa essere solo una solida amicizia o sperate in un colpo di scena? Vi prego, fatemelo sapere nei commenti, sono curiosissima di conoscere la vostra opinione! Se vi è piaciuto il video e volete rimanere sempre aggiornati sui colpi di scena del mondo dello spettacolo, lasciate un commento e non dimenticate di iscrivervi al canale Serie TV Italia. Un grande saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video!